Buongiorno Camosci, oggi il branco è numeroso, guardate un po' che roba, guardate un po'. New Entry, la lince, il recuperato, la farina, il cinghiale che ha dei momenti di, questo momento va in amore, il riccio, l'orso, 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 l'orso è il più affidabile di tutto, poi dietro di noi il grande capitano che ovviamente si è preoccupato di venire qua a farci immortalare questo momento bellissimo, oggi la giornata è bella e chi non è con noi si sta perdendo qualcosa.